Lo scarafone che intese il gronfiare dell'osite, se le sagliette, giano, giano, quello pede della travacca all'oliette, e rimorchiato su sotto coperta, se un puccae lesto lesto allo tapanare dell'osite, servendo la supposta in forma tale che la spilaia di Manela e lo cuorpo, tanto che potette dicere con petrarca, da loro trasse in te un liquido sottile. La zita che intese la squacquarare della cagarella, l'oro, l'odore, i refrigeri e l'ombra, ce dai lo marito, lo quale, visto con quale profumo aveva incensato l'idolo suo, ebbe a morire di vergogna ed a crepandare di collera. Allora, riuscite da l'oliette, fattese una lavata tutta la persona, mandai a chiamare i medici, l'iguale dette della causa di stata disgrazia allo disordine dello banchetto passato. E quando fu la sera a pressa, tornate a consigliare con gli cammariere, furono tutte le parere che sembracasse da buona panna per rimediare a qualche nuovo inconveniente, la quale, cosa fatta, si è accorcare. Ma, addormentatese di nuovo, è tornato lo scarapone a farlo lo secondo despietto, trovai ammarrato lì basso, per la quale cosa, tornai malcontento agli compagni dicendolo come lo ziti si aveva fatto robare de' fasciatore, argile de' farda e trincè de' pezza. Lo sole c'è, che si è detto, che si disse, vieni conmigo, e vedrai si so' buona guastatura a schienarti la strada. Ed arrivato sopra la faccia dello luogo, cominciai a roscare le panna e a farle nato pertuso al biel de' chi l'altro. L'occhio della sede lo scarapone le fece un'altra cura medicinale, da maniera che lo ziti fece un'omare de' liquide topazio e l'arabi profumi a festare nel palazzo. Per la quale cosa, scetatese, l'ammorbata sede, e dallo lume d'una lampa vistelo del lupio cetrino che aveva fatto diventare le lenzuola domanda, mosaico da Venezia giallo ondulato, attirandese lo naso, foglietta la camera delle dammicelle, e lo negro sede, chiamandoli i camerieri, si fece una lunga lamentazione della disgraziazione che aveva cominciato a edificare le grandezze della casa soia. I familiari suoi lo comportavano, consigliandoli che stesse il cervello la terza notte e lo contarono, lo conto, lo malato per dare e lo mette come otsegutolo. lo malato, avendese lasciato scappare un pirato, lo mette che parlando la letterata disse sanitatibus, ma facendo una kill, una seconda, lo mette che replicava ventositatibus, ma continuando la terza, il saperse tanto da canne di sanitatibus. perciò, se lo primo lavoro a mosaico fatto all'oletta noziale si era incorpato allo disordine dello magnale, lo secondo allo stato male dello stomaco per il quale si era scontrato lo corpo, lo terzo si imputerà a natura cacazzara e sarà cacciata a fede e a vergogna. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.